ciao ragazzi come va? bentornati nelle mie lezioni come sempre vi invito se vi piacciono se trovate divertenti interessanti un po diversi dal solito cliccate mi piace e se mi se vi iscrivete al mio canale o mettete mi piace alla mia pagina facebook mi fate un grande favore tutto il materiale completamente gratuito lo potete scaricare al link qui sotto e oggi voglio parlarvi voglio consigliarvi un esercizio fantastico che diciamo non ho inventato io me ne assumo piena responsabilità non ricordo perché ovviamente non ci si può ricordare tutto non mi ricordo chi da chi l'ho preso e comunque l'ho un po diciamo modificato a modo mio mettendo anche dei passaggi un po alla diciamo alla giaco maniera allora brevemente vi faccio un esempio di oggi in sol maggiore invito ovvio ormai di studiare la scala e l'arpeggio su tutta la tastiera se volete ci sono le lezioni un pochino più indietro dedicate a lo studio di arpeggio e scale su tutta la tastiera in orizzontale in verticale in tutti i modi possibili e il diciamo l'esercizio di oggi è basato sulla pentatonica maggiore di sol ovvero sol la si re mi sol che è identica alla pentatonica minore di mi cercate subito di esercitarvi anche oltre come ho detto prima la scala all'arpeggio di sol su tutta la tastiera anche sulla pentatonica quindi c'è chi usa delle riteggiature chi è una specie di modi della scala della pentatonica maggiore cioè si fa dei box io ragiono sempre in note ma comunque sono appena approcci che ognuno può fare a modo a modo proprio a note oppure a diciamo a schemi ma più che altro inizio la scala con due o tre dita diverse e quindi mi creo tre diteggiature diverse e poi le mescolo e riesco a suonare su tutta la tastiera ad esempio se parto con il dito indice oppure col mino oppure col medio e mescolando le e mescolando le questo è il dito indice quindi si la so si la so passo a quarta terza seconda nota ovvero re si la quindi si la so re si la salvo ancora di una nota quindi vado in mi mi re si si la so de si la mi re si so mi re so mi re ancora avanti la so mi vedete sono sempre le note della pentatonica andando a salire di volta in volta di un intervallo di una nota insomma della pentatonica partendo da si poi parto da re poi da mi poi da sol da la e vado avanti quando arrivo qui posso fare questo giochino quindi si la so che posso fare in questo modo e ripeterlo in quest'altro per neppi scorrere in avanti si la so si la so vado avanti e trovo quindi il re re si la re si la re si la faccio due volte la stessa cosa cambiando diteggiatura mi re si sol si la so mi mi re si la so mi re la so mi la so mi sempre identico però cambiando diteggiatura Una volta arrivati al re, cambio pattern e qui entra in gioco un esercito, un tipico fraseggio di Jaco che ha usato nei soli, nelle improvvisazioni, che è la pentatonica a gruppi di cinque noti, quindi in terzine ma a gruppi di cinque. Quindi parto da re, che è l'ultima nota possibile che ho della pentatonica di sol sul mio basso a venti tasti, faccio la pentatonica discendente a gruppi di cinque note, ovvero re, si, la, sol mi, parto dalla nota, questa volta discendente, la prima nota discendente della pentatonica, quindi da si, si, la, sol mi, re, 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 perché spesso nell'improvvisazione è un'idea molto carina e molto efficace, per esempio vado in Mi maggiore, oppure prendo un altro tipo di scala e faccio comunque questo pattern a terzine a gruppi di 5, vedete tutto nel pdf e quindi vi ripeto un attimo l'esercizio lentamente da cima a fondo e poi ve lo faccio vedere la velocità che ho scelto io con ognuno può fare come desidera e parte così per chiudere con una scala di solle su due ottave per completare l'esercizio, quindi quando lo faccio vedere a velocità appunto che ho scelto io e utilizzate questo esercizio perché per la coordinazione, l'indipendenza delle dita e la conoscenza della tastiera è un esercizio top, amazing in inglese, ci vediamo al prossimo video